Bentornati amici di MyFootballJersey. L'avete riconosciuta vero? Questa è la prima maglia dell'Inter per la stagione in corso alla V2023-24 in edizione Player. Grazie per la visione! Questa maglia è molto bella, l'avevamo già vista in versione fan, trovate qui in alto la recensione, l'ho ripresa perché sono colori che per l'Italia sono veramente importanti di una delle squadre più blasonate. Il costo lo vedete qui sopra, molto basso se considerate che la maglia arriva anche con ottimi tempi di spedizione. In descrizione qui sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché c'è anche un coupon per i nuovi iscritti, quindi cosa aspettate? Ora vi lascio alla parte finale. Prima però iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla ma ci permette di farvi vedere recensioni come questa tutti i giorni. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia Large della versione Player. E' un'altra parte. E' un'altra parte. E' un'altra parte. Grazie a tutti.